Siamo con Giovanni Giuseppe Mattera del Lido Tricciurillo. Come è andata questa fase ferragosto e la serata di ieri? Devo dire che questo ferragosto è stato particolarmente tranquillo. Noi abbiamo avuto il mese di luglio un po' più movimentato, invece il mese di agosto si è rivelato più regolamentato, più settato e organizzato. Per cui non ci possiamo lamentare del tipo di lavoro, pur avendo chiaramente tutto occupato. Ferragosto chiaramente ci ha dato l'agio di poter lavorare almeno fino alle due e mezza, tre, prima che poi si è scatenato un putiferio stanotte. Per cui anche lì possiamo dire che non è andata male. E i festeggiamenti come sono andati? Avete visto meno caos, più caos rispetto agli altri anni? Sì, come dicevo, questo mese di agosto, almeno dal lato mio, quello che ho potuto vedere sul mio stabilimento, è un po' più regolare il flusso. Non c'è quel movimento forte di luglio, anche di giornalieri come c'è stato quest'anno, per cui possiamo dire che tutto sommato sta andando bene. Il tipo di turisti, la razionalità? Adesso chiaramente è prettamente napoletano, poi noi lavoriamo molto su, credo che valga un po' per tutti. Il mese di agosto è il classico mese che si lavora con gli stanziali, quelli che sono un po' la clientela affezionata, lo zoccolo duro dello stabilimento. Mentre invece a luglio, devo dire, è stata una piacevole sorpresa, ripeto, faccio sempre questo confronto perché è estremo, è una piacevole sorpresa di molte coppie, età media 30-27, di stranieri, e credo che questo sia dovuto un po' a queste casa famiglie, bed and back, fast Airbnb, che si sta portando molto e questo sta cambiando un po' la tipologia del turista giornaliero. Invece i danni del maltempo? Noi più che il danno, una tantum, siamo un po' abituati, dato proprio la ristrettezza delle rive e delle spiagge, siamo un po' abituati a essere colpiti regolarmente, diciamo, anche dalle onde delle navi, parliamoci chiaro. Le spiagge sono abbastanza corte, la mia moglie in particolare ha una sorta di scogliera davanti e quando Francia e il mare sale su e porta via qualcosa, ma mareggiate non ce ne sono state, il tempo è stato anche molto regolare, per cui quelle poche botte che abbiamo avuto non hanno fatto danni particolari, a parte qualche ombrellone che è volato in questi giorni per via del vento fortissimo. E la pioggia di stanotte? Eh, la pioggia di stanotte è stata fortissima, nel caso mio, perché poi è troppo presto, non ho sentito i miei colleghi, ha battuto 3-4 ombrelloni di quelli grossi, hanno portato un tavolino, ma voglio dire, siamo nella misura, niente danni alle strutture, ecco.